Un nuovo terremoto si è verificato all'alba di oggi, a largo delle isole Oglie. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dagli NGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 6.49 di lunedì 5 dicembre. Il sisma ha colpito la medesima area di quello registrato domenica mattina che aveva provocato un piccolo tsunami. A quanto si è capito finora, osservando i dati delle telecamere e degli strumenti che hanno rilevato il fenomeno, leggiamo in una nota. Lo tsunami è stato generato dall'impatto sulla superficie del mare di un flusso piroclastico, piuttosto intenso, analogo a quello avvenuto all'inizio di ottobre, ma più intenso. Grazie.